Salve e benvenuti al meteo di fil rouge tv vediamo le previsioni del 13 marzo la circolazione di bassa pressione responsabile di residua instabilità mattutina si allontana favorendo l'ingresso di un'area secca responsabile di un lento rasserenamento in cieli molto nuvolosi e coperti con debole piogge per l'intera giornata graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fina cieli poco nuvolosi in serata venti moderati dei quadranti sud occidentali basso tirreno canale e mare di sicilia calmo vediamo adesso le temperature agrigento 913 caltanissetta 6 10 catania 9 14 enna 3 7 messina 12 14 palermo 12 17 ragusa 5 11 siracusa 11 14 trapani 6 16 11 grazie per averci seguito appuntamento al meteo di domani